Oh! Ecco la mia reazione alla faccia di Dream Ed eccoci qua, ed eccoci qua Vediamo intanto la sua testa Devo dire comunque ragazzi che sono Abbastanza emozionato Sono stracurioso, vediamo, vediamo Oh! No dai! Eh vabbè trolla, sì vabbè Secondo me è tutto un video trolla a sto punto Ma che sta combinando? Ragazzi, oh! Oh! Olè! Oddio Non so ragazzi, ma non so per quale motivo Sono contento, non lo so Non so spiegarmelo, anche lui ha un naso Assurdo E voi come avete reagito? Scrivetemelo qua sotto Con un commento